Sì, non è vero, non è vero Viene fuori leggermente la testa sotto, il modello è grigio metallizzato, viene 12,5 kg e io gli ho detto che vado via le assi. Grazie. 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 Sei qui tu? Sì, ho fatto fuori quello da 30 che avevo, perché mi avevi fatto uno da 30 e uno da 20, quello da 30 l'ho fatto fuori, quello da 20 sono... ne ho ancora ma non... E' un po' che aveva difficile da 15 a anni, ma non è anche un po' che aveva Club. E' un'altra parte quando faccio i suori, mi siello che aveva un po' che aveva fatto, non è giusto... ...e la tua parte aveva un po' che aveva un po' che... ...e l'unico che è un po' che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.